Si fa sempre più aspera la battaglia tra RFI e comitati a comuni che si battono contro il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma, o meglio contro il progetto messo in piedi da un pool di ingegneri di ferrovie italiane che va a determinare un fortissimo impatto sui centri urbani e la viabilità dei comuni coinvolti. L'ITER per l'inizio dei lavori procede spedito, tanto da far iscrivere i primi proprietari di immobili sul registro degli espropri. Non c'è dunque tempo da perdere da qui la decisione di Conferri, il comitato principale che conta più di 3.000 iscritti in accordo per la prima volta con il comune di Manopello e poi anche con quelli di Chieti per l'impatto su Chieti, Scalo e Brecciarola e di San Giovanni Teatino per avviare una battaglia legale a cominciare da un ricorso congiunto al Tribunale amministrativo regionale. Questa mattina primo confronto al comune di San Giovanni Teatino per fare il punto della situazione. In campo un pool di avvocati pronti a distruire un ricorso inattaccabile che prenderà spunto anche dal famoso studio costi-benefici presentato di recente a Chieti che dimostra scientificamente quanto sia fallimentare il progetto ed anche se da più parti, perfino da importanti esponenti del Ministero delle Infrastrutture si parla di opera irrealizzabile, comunque non c'è da fidarsi, sostengono dal Confer. Mentre l'assessore comunale di San Giovanni Teatino Paolo Cacciagrano parla di fallimento totale della classe dirigente regionale incapace di comprendere l'impatto negativo sulle popolazioni e di non tener conto delle tante varianti al progetto già ampiamente proposte.